Da martedì scorso anche la Misericordia di Alto Pascio, nel poliambulatorio specialistico di via Marconi, effettua su prenotazione attraverso i laboratori Biolabor i test sierologici utili per scoprire se una persona ha sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza i volontari della Misericordia non si sono mai fermati e ora continuano la loro attività e la propria presenza sul territorio comunale, effettuando anche i test sierologici a prezzi calmierati. I test vengono eseguiti solo il martedì, dalle 7 alle 9. Chi volesse effettuarli deve prenotarsi all'indirizzo email infermiere.misealtopascio.com La Misericordia di Alto Pascio è una realtà storica per il nostro territorio e durante l'emergenza ha dimostrato il suo attaccamento, il suo radicamento al territorio di Alto Pascio. Sono stati molto presenti, hanno collaborato sia nell'ambito della protezione civile, quindi con il COC e tutto quello che è riguardato il sostegno ai cittadini che avevano bisogno di tutte quelle assistenze che in questa emergenza erano necessarie. E anche in questo caso con la possibilità di svolgere i test sierologici si dimostrano presenti e vicini alle necessità del territorio che cambiano velocemente. Quindi a loro va un ringraziamento per il sostegno che danno in questi termini e per tutto il loro lavoro che è veramente a 360 gradi nell'ambito socio-sanitario. Grazie.